salve a tutti signori ben ritrovati rieccoci con l'altro per i trading strategia revolution corro perché qua nzd usd mi sta scappando mi sta scappando signori e ce l'ho stavo guardando a tre ore ma mi sta scappando nzd usd già siamo scesi un pochetto andiamo che scenderemo ancora di più dovrai scendere ancora di più ok rimettiamo a posto il grafico un minuto eccolo qui diciamo abbiamo ricevuto la conferma poco fa allora ben trovate a tutti sono contento di rivedervi perché per me alla fine è un piacere essere qui a fare video con voi allora voglio rispondere quindi approfittare di questo video per dare delle risposte delle domande specifiche che sono state appunto effettuate durante la settimana allora il topic quindi il soggetto è la dichiarazione dei redditi in italia sui profitti del trading come dichiararle allora innanzitutto vi rimando a due miei video precedenti in cui parlo diffusamente dell'argomento uno addirittura di dieci anni fa ed uno anche più recente per se volete una panoramica quello che posso dirvi oggi è appunto la risposta a queste domande specifiche una domanda specifica mi chiedeva come bisogna fare per ottenere dal broker una sorta di report in cui ti fa un riassunto certificato da lui di quelli che sono i tuoi risultati annuali la domanda risposta semplicissimo non si può non esiste il broker non mi fornisce nulla ma anche perché il broker non ha alcun alcun dovere alcun collegamento con lo stato italiano con le autorità fiscali di qualsiasi paese però come possiamo avviare a questo signori noi abbiamo uno storico operazioni tutti in qualsiasi broker voi fate che sia gran capito come questo in questo caso che sia pocket option che sia tutto quello che volete abbiamo uno storico operazioni basta aprirlo vi fa selezionare l'intervallo e voi mettete ovviamente intervallo rilevante ai fini fiscali che primo gennaio 31 dicembre e da lì ci saranno 1130 mila operazioni non so quante volte dovete quante pagine vi aprirà magari alcune sono una insomma fate degli screenshot cartella tutto insieme dopodiché fatto questo screenshot semplicemente basta fare un conto non bisogna andare a guardare una una ma fare un conto molto semplice durante l'anno depositi col segno meno più prelievi più balance quindi più questa qui una volta che avete fatto questo naturalmente dovete una volta che avete fatto questo saprete di che è morto morire scherzi a parte se questo numero sarà positivo vuol dire che c'è stato un profitto e dovete pagare delle imposte e al vostro commercialista ragioniere chi si occupa della dichiarazione di cosa porterete gli screenshot dove si evince appunto questo calcolo perché non è che voi fate un calcolo ma si dichiara no bisogna portare delle prove quando si fa una dichiarazione e quindi apposta certamente c'è da perdere un 20 minuti mezz'ora a inizio anno però signori credo che sia un problema che tutti vogliono avere cioè quello di guadagnare quindi dover pagare le tasse perché si è guadagnato perché si è profittevole nel trading chi invece non ha questo problema speriamo che ce l'abbia presto altra domanda alcuni consulenti quindi miei colleghi hanno detto e chiesto di utilizzare la banca quindi la carta di credito per fare i movimenti nella uscita dei broker perché più agevole per tracciare ragazzi non è vero si può tracciare tranquillamente anche con le cripto con le cripto voi avete tutti i pagamenti tracciati avete i dd di transazione avete tutto semplicemente per dimostrare che avete prelevato tramite binance all'amministrazione finanziaria non ci vuole assolutamente nulla è tutto triangolato tutto semplice tutto immediato quindi utilizzate quello che a voi conviene certamente io semplicemente alcuni broker come anche gran capita stanno riaprendo le carte di credito poi vi farò un video specifico quando lo stiamo provando farò un video specifico ma io come sempre ragazzi a scanso di equivocci vi dico sempre di utilizzare le cripto valute quindi usdt a scanso di ogni chi chi invece ancora manda della vecchia e cara carta di credito lo può fare quando il broker glielo consente però può succedere che magari i depositi prelievi vengano sospesi per le carte quindi magari poi dovrete utilizzare altri mezzi insomma non è detto che sono sempre disponibili ok questo è la motivazione per cui e poi prendiamoci chiaro anche la velocità la block chain ci mette veramente due minuti da come sapete i broker già ci mettono un po di tempo per processarlo si possono prendere un po di tempo poi così poco là se li diamo tutti gli alabi invece così ragazzi block chain due minuti arrivano i soldi e state belli che tranquilli e pacifici ok quindi credo che abbiamo risposto altra cosa che volevo dirvi vi ringrazio per i commenti positivi che ho ricevuto relativi relativi all'altro video quello precedente in cui smascheravamo un ciarlatano del web mi raccomando andate a rivedere se non siete persi e ragazzi che dire io posso dire solo questo è inutile che qualcuno dice no ma tu sei geloso tu pensi che questi qua tu lo dici però questi guadagnano ragazzi allora io posso anzitutto dire cazzate posso dire quello che voglio posso essere qua e parlare del nulla però io sono una persona fisica reale non sto recitando non ho nulla di iscritto qui non ho nulla non ho nulla di preparato vengo qua e parlo abbraccio quindi sono vero dopodiché io ho un telefono il numero di questo telefono è in descrizione whatsapp telegram messaggi email tutto rispondo sia per il messaggio e se ci troviamo che sono libero perché no anche a telefono potete sentire la mia voce di una persona reale vera chi vuole venirmi a trovare do anche l'indirizzo problemi non è se siete mie ospiti con grande piacere vivo all'estero ma potete venire lo stesso quindi sono una persona reale vera poi ho il diritto di essere qua a dire cazzate corbellerie e anche truffano a voi non interessa però dietro c'è una faccia non c'è un prestanome non c'è una testa di legno non c'è uno che fa finta non c'è uno che prende per il culo ok e soprattutto io si offro dei servizi a pagamento certo perché giustamente ragazzi anni di studio quotidiano io non la do gratis se qualcuno vuole dare gratis è libero ma le cose gratis ragazzi non sono mai almeno a me in tutti i campi mi hanno sempre portato alla rovina io non vi dico di entrare in fantomatici gruppi vip per parlare con me dovete fare a come può parlare chiunque la chiacchiera nella donatologo nessuno non costa poi chi vuole fare i miei corsi ci sono i prezzi che dopo diremo ma non è che per parlare con me devi iscriverti al gruppo vip devi entrare nella setta se fai un versamento se fa ragazzi prese per i fondelli la cosa che ripeto che come ho già detto che mi dispiaceva è che molte persone hanno veramente fatto il versamento perché fu impreso anch'io ma anni fa da questa da questa da questa cosa qui capito quindi a me questo dispiace parliamo di un branco di lupi affamati e ci sono delle pecore in giro però certe volte ragazzi è come se assomiglia la descrizione degli hobbit nei libri di token praticamente è un po siano perché tu giovanni vuoi difendere le persone che sono in difesa che vuoi dare anche una mano un aiuto dire la verità a poi viene aggredito viene visto come il cattivo si viene detto no ma sei geloso di quelli che sono i lupi quindi è come se c'è una sorta di sindrome di stoccolma qui tra vittime carnefice a cui piace diciamo così non voglio dire parole volgari però piace farsi fregare è come se quello è il diritto di fregarmi no quello è un truffatore poi non ha alcun diritto di fregarti poi tu sia una brava una cattiva persona non deve essere fregato punto cioè semplice io così la per io sono purtroppo molto estremista nel bianco nel nero per me non esiste esistono certamente le sfumature nella vita però su certi principi i principi non si negoziano io così la vedo quindi quello è un truffatore che prende per il culo gente sproveduta punto poi stranamente la gente sproveduta difende anche i propri carnefici e questo è un qualcosa che esiste da sempre nella storia dell'uomo ma a me interessa poco io sono qua e vi dico la verità quindi ancora una volta vi ringrazio e ripeto se vuole sapere di cosa parlo da vedere il video e ne abbiamo parlato maniera molto 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 chiara anche perché come detto qui c'è una persona vera così come tutte le persone vere io posso sbagliare non sono esente da colpe non sono esente da non faccio tutto perfetto nemmeno con le opzioni binarie ragazzi perché io non è che faccio 100 per cento delle operazioni faccio uno score alto 93 per cento ve l'ho fatto vedere anche però gli errori capitano anche a me così come magari anche nel fare i video ne ho fatti due due trecento qualche video non sbagliato magari inopportuno magari che posso spiegare qualche cosa che la posso aver fatto detto ma perché no sono una persona umana fallibile ma vera reale da toccare con mano ok non un sagoma un prestanome che non sa nemmeno l'italiano schemi vecchi vecchi schemi dopo di dieci anni fa nel 2023 seconda metà 2023 sono inaccettabili ma ragazzi guardate qualche bella operazione come sta andando a perché poi ragazza attenzione dietro questa operazione c'è una strategia studio approfondimento dieci anni di esperienza potete arrivare a c'è che voi certo i miei corsi non disponibili ecco qua mi dico tutte le condizioni la strategia revolution solo pdf euro 200 con video euro 200 ma vince nessuna secondi solo pdf euro 100 con video 150 il corso completo di trading che è la mia il mio consiglio a voi euro 600 abbonamento euro 600 tre stregge pdf 13 video lezioni gruppo corsisti webinar eccetera eccetera la revolution dashboard questo fantastico strumento euro 100 abbonamento annuale ok io come vedete posso anche voi potete fare il corso quello che volete a me interessa ce la potete fare tutti ma dietro questo corso dietro queste cose c'è esperienza ragazzi sono dieci anni quindi voi andate a comprare dieci anni di esperienza non vi sto qui a venire a dire ragazzi qua sicca e simpliciter tac tac due botte vai va qua e vai sopra vai ragazzi stiamo prendendoci per il culo cioè non è che possiamo fare così semplice così voglio dire sminuire le cose questa gente sminuisce anche cioè non è che io qua metto metto due indicatori a cazzo del broker a se tocca qui vado ragazzi c'è dietro questa operazione che voi vedete c'è c'è del lavoro che non viene mostrato però ovvia ragione perché non sto qua a farvi il corso il corso lo fa chi paga e chi ha pagato per rispetto a chi ha pagato soprattutto non sto qua a farlo ma non è nemmeno questo che mi compete cioè avete capito che voglio dire che poi mi viene detto no ma tu giovanni ragazzi allora questa qui sta andando bene però ragazzi non è mai detta l'ultima parola vediamo un po' 12 e 23 alle 12 e 38 giusto quindi praticamente mancano due minuti esatti due minuti esattamente due minuti ecco sono riuscito a non fare il video gigante per la vostra noia che capisco che voglio dire c'è la passione a guardare speriamo non ci faccia scherzi dai non mi va non mi va non mi va sapete ragazzi dopo che uno preleva che è bellissimo prelevare ho fatto un esperimento con il team di gran capito mi hanno chiesto di fare l'esperimento con la carta di credito quindi ho fatto un prelievo consistente sulla carta di credito e vediamo se va a buon fine perché loro vogliono appunto capire se è dall'italia che hanno una piattaforma poi ve lo spiegherò però fino a quando non abbiamo fatto tutti i test non posso non vi dico ancora nulla poi dopo magari ve lo moscerò e dicevo ho fatto che quindi ora dico cavolo ok ho messo la balance un po' più bassa del solito immaginatevi se tu inizi a perdere mentalmente cavolo ma non è che devo ricaricare ma che cavolo mica devo ricaricare cioè capite partono tutte queste cose mentali che c'è che è dura poi farci conti ragazzi scherzi a parte vedete quando uno dice che il trading è sempre testa è molta testa è solo testa come approcci come fai come dici è molto importante e quindi non voglio iniziare ragionata così poi posso perdere a qualcuno ma non voglio iniziare oggi già adesso dai dai per favore allora 36 quindi mancano esattamente qualche decino di secondi purtroppo per i gufi per il broker questa qua non ha non può essere recuperato da loro e infatti success 85 accreditati benissimo signori molto 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 bene allora grazie mille dell'attenzione faremo una diretta estiva come il caldo che vuoi stare soffrendo a detta calda quanto prima probabilmente questo weekend ma io vi aggiorno sui miei canali su youtube qualche giorno in anticipo e niente ragazzi per qualsiasi cosa avete i miei numeri la mia email tutto quello che vi serve in descrizione così come il link di gran capito di pocket di quello che volete ok tutte le informazioni le trovate qui per qualsiasi cosa telefono messaggio quello che vi serve ok iscrivetevi al canale mi piace il video e un abbraccio a tutti ciao